Ha 18 anni ed è già professoressa all'Istituto di istruzione superiore Erminio Maggia di Stresa. Giorgia Pasqua, originaria di Randazzo, è l'insegnante più giovane d'Italia. Grande la soddisfazione della professoressa Stresa, che ha ottenuto il diploma di maturità lo scorso giugno e inviata alla messa a disposizione, già da qualche mese insegna come supplente a ragazzi di secondo e quinto superiore. La giovane docente ha raccontato ai nostri microfoni la sua esperienza ricca di emozioni e cambiamenti, il rapporto con gli alunni, i suoi coetanei e i progetti futuri. Ho iniziato prendendo il diploma con un voto alto, 95 su 100, quindi questo voto mi ha consentito di poter arrivare dove sono adesso. Oltre questo ho certificazioni informatiche, CDL, e poi ho conseguito questo settembre i 24 CFU, i crediti formativi universitari che abilitano l'insegnamento. Quindi ho preso questi crediti e nulla, ho mandato le MAD a varie scuole d'Italia e sono stata chiamata appunto qui a Spresa al Maggia. Insegno cucina, a due seconde e due quinte. Quindi si tratta comunque di alunni che hanno più o meno la tua stessa età, sono quasi i tuoi coetanei. Com'è stato l'incontro con loro? All'inizio ero spaventata perché vedendomi giovane appunto come loro, essendo coetanei, e ho detto magari se ne approfittano, li mettono i piedi in testa. Invece devo dire che proprio questa vicinanza d'età non credo sia così tanto scomoda. In realtà secondo me è un punto di forza proprio perché riesco a comprenderli. Infatti andiamo d'accordo, c'è rispetto. Ovviamente all'interno della scuola capiscono che loro sono gli alunni, sono la professoressa, quindi appunto si comportano bene con me. Quanto è stata la soddisfazione quando ti hanno chiamato per dirti sarai la supplente del nostro istituto? È stata molta. In realtà avevo già ricevuto la chiamata per fare la settimana prima. Però non so cosa è successo, mi hanno richiamato la settimana dopo, quindi già ero preparata. Però è stato bellissimo avere la conferma appunto che sarei partita. I miei genitori subito hanno deciso di mandarmi, abbiamo fatto il biglietto e siamo partiti io e mio padre. Tutti soddisfatti, contenti e commossi. Non c'è solo l'insegnamento tra i tuoi obiettivi, perché studi, stai studiando per i test di medicina veterinaria, giusto? Sì, esatto. Mi sono iscritta a un corso che è online e seguo le video-lezioni di pomeriggio, quando torno a casa dopo scuola. Gli animali sono la mia passione, infatti vorrei intraprendere questo percorso, però devo dire che avendo avuto la possibilità di iniziare il percorso scolastico mi sta piacendo molto. Quindi la mia passione per gli animali passa in secondo piano. Vediamo se riesco appunto a inserirmi nelle gradatorie quelle ufficiali, GPS, e entrare di ruolo a scuola. In caso contrario ho appunto il piano B, che sarebbe procedere con la medicina veterinaria.